Ehi, ascolta, ho una dritta pazzesca. Il numero 5 della cazza. Un vero fulmine. Quella puledra corre come un diamo. Puoi puntare? La tua ultima dritta mi ha fatto perdere una settimana di paga. E dai, stavolta è diverso. 100% garantito, colpo sicuro. Sì, certo. Ok, c'è stato. Alla grande. Ehi, non te ne pentirai. Ma che problema hai? Perché non fai come ti dico? Non seguirmi come un cagnolino del cazzo. Mi scuso per il mio comportamento alla centrale. Non volevo essere scortesa. Che roba. Ti hanno messo anche il programma scuse dalle cacura. La Cyber Life ha pensato proprio a tutto. Ecco qua. Grazie, cari. Una fana. Non lasciare lì quel coso. Non preoccuparti. Mi segue ovunque. Il suo pasto contiene calorie 1,4 volte il fabbisogno giornaliero e il doppio del colesterolo. Non dovrebbe mangiarlo. Di qualcosa si deve morire. Mangia spesso qui? Abbastanza. Fai i migliori hamburger di Detroit. Posso farle una domanda personale, tenente? Perché odia tanto gli androidi? Ho i miei motivi. C'è qualcosa che vuole sapere di me? Io no. Anzi, sì. Perché avete questo aspetto scemo e questa voce del cazzo? Gli androidi sono progettati per operare in armonia con gli umani. Sia il mio aspetto che la mia voce sono concepiti per facilitare la mia integrazione. Hanno toppato. Forse vuole che le dica cosa sappiamo dei devianti? Mi leggi nel pensiero. Prego. Crediamo che il software di alcuni androidi sia afflitto da una mutazione che li porta a emulare le emozioni di un umano. Falla facile. Grazie. Non provano vere emozioni. Si fanno travolgere da istruzioni irrazionali che inducono comportamenti imprevedibili. Le emozioni mandano tutto a puttane. Gli androidi non sono poi così diversi da noi. Ti sei mai occupato di devianti? Qualche mese fa. Un deviante minacciò di buttarsi dal tetto con una bambina. E io l'ho salvata. Scommetto che hai fatto i compiti, vero? Svolgere indagini sulla mia vita. So che al diploma è stato il migliore. Si è distinto per il suo lavoro, diventando il tenente più giovane di Detroit. So anche che ha ricevuto vari richiami disciplinari negli ultimi anni e che frequenta spesso i vari. Quindi dove vuoi arrivare? Penso che lavorare al fianco di un agente con problemi personali sia un ostacolo. Ma adattarsi all'imprevedibilità umana è una delle mie funzioni. Ho avuto un rapporto su un deviante sospetto. Ha pochi isolati da qui. Diamo un'occhiata. La lascio a suo pranzo. Sono in macchina se ha bisogno. Ehi, Connor! Hai le batterie scariche? Mi scusi. Facevo rapporto alla CyberLife. Hai deciso di accamparti nell'ascensore? No. Sto arrivando. Cosa ne sappiamo di questo tizio? Non... Molto. Un vicino ha detto di aver sentito strani rumori provenire dal suo piano. Pare che qui non ci viva nessuno, ma ha detto di aver visto un uomo con un LED sotto il cappello. Oh, cazzo. Se ci tocca indagare ogni volta che qualcuno sente un rumore, servono altri sbirri. Stavi davvero facendo rapporto prima nell'ascensore? Solo chiudendo gli occhi? Esatto. Cazzo. Quanto ti invidio. C'è nessuno? Aprite! Polizia di Detroit! Stammi dietro. Va bene. Polizia di pensare. Polizia di Antonio dagegen. Sono pescare. Chi ci riguardo abbiamo sp oxygenato. Solo chiudere. Sono pescare. Chiudere necić кошמ Vari. Ora. Los, diole, sono pescare 중. Biografia di nata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se n'è già andato. R.T. Iniziali, forse. Alle iniziali sulla giacca. Le cuceva mia madre all'elementare. La patente di guida è falsa. Bene, non siamo venuti per me. La patente di guida è falsa. La patente di guida è falsa. C'è qualcosa? Non lo so. Sembrano degli appunti, ma sono indecifrabili. La patente di guida è falsa. Sai cosa significa? R.A. 9. Scritto 2471 volte. La stessa parola scritta dall'androide di Ortiz nella doccia. Perché mi sono ossessionato? Sembra una specie di labirinto. La patente di guida è falsa. La patente di guida è falsa. La patente di guida è sempre insieme. Oh Dio santo, come li odio! C'è un led sul lavandino, è ovvio che fosse un androide, nessun umano potrebbe vivere con dei piccioni del cazzo. Questa è un luogo, è un luogo, è un luogo, è un luogo. Questa è un luogo, è un luogo, è un luogo, è un luogo. Questa è un luogo, è un luogo, è un luogo. Questa è un luogo, è un luogo, è un luogo. È incredibile, il coglione d'appalaccio di queste bestiagge. Maledizione, piccioni del cazzo! Questa è un luogo, è un luogo. Questa è un luogo, è un luogo. Questa è un luogo, è un luogo. Porta fuercos! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Porta fuercos! 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 Lo troveremo Ehi Connor Niente Chi siete? Fugiaschi Proprio come te Io sono Josh Sono Simon Norton E sapevate che solo un androide poteva arrivarci, vero? Soltanto chi è come noi può trovare Jericho Se hai decifrato i segni è perché uno di noi si è affidato e ti ha dato la chiave C'è un uomo dove saremo lì? Trova Jericho Quanti siete? Diciannove perfettamente funzionanti Gli altri hanno subito danni durante la fuga In molti cercano Jericho Pochi ci riescono Gli umani non hanno pietà per noi Questa è Jericho? Un rifugio per chi non intende più essere schiavo Capisco come ti senti Ma siamo più liberi di quanto tu sia mai stato Vivere nel buio in attesa di qualcosa Non è la mia idea di libertà Ti senti perso? Come tutti quanti noi Non l'abbiamo scelto Ci possiamo convivere Nient'altro Qui sei al sicuro Puoi restare per tutto il tempo che vuoi Va a parlare con Lucy Forse ti potrà aiutare So che anche gli umani hanno paura di morire Sai cosa succede dopo la morte? No Non lo so Beh, lo scoprirò molto presto Come ti chiami? Marcus Che piacere conoscerti, Marcus Che piacere conoscerti, Marcus Iscrivemi Che piacere conoscerti Cap observe E Bin Sì, sì. Sì, chi disobbedisce ci disprezzano. Non ci accetteranno mai davvero. A questa gente servono componenti e sangue blu. Perché nessuno se ne sta occupando? Forse è così facile. Non possiamo mica andare a chiederlo alla Cyber Life. E in ogni caso nessuno osa lasciare Jericho. Da quanto tempo sei qui? Quattro settimane, tre giorni e undici ore. All'inizio non sapevo dove andare. Jericho sembrava un posto come un altro. Se vuoi una vita facile hai scelto il posto sbagliato. All'inizio non sapevo dove andare. Non so se vuoi l' enorme деньги. L'hanno buttato quando non ne avevano più bisogno. Viveva per strada prima che lo trovassimo. Si spegneranno se non troviamo un modo per aiutarli. Per aiutarli servono sangue blu e biocomponenti. Recuperiamo il possibile da quelli disattivati. Ma non è abbastanza. Quindi come sopravvivono? Con niente. Moriamo piano piano. Morissimo. Corone giove. Grazie per l'altra. Allora, ciao. Grazie a tutti. 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 Dammi la mano. Grazie a tutti. Una parte di luce e una parte di ombra. Quale preparà? Le tue scelte decideranno il nostro destino. Grazie a tutti. Lo impedirebbero. Ti senti bene? Troveremo aiuto. Presto sarà tutto un brutto ricordo. Presto sarà tutto un brutto ricordo. Grazie a tutti. Sei tu, Zlatko? Chi lo chiede? So che puoi? So che puoi aiutarci. So che puoi aiutarci. Su, entra. Su, entra. Lutero, puoi? Vuoi riporre i sopravviti di questo signore? Oh, sta tranquilla. Non morda mica. Luther è uno degli androidi che ho aiutato. Mi fa un po' di compagnia in questa grande casa. Prego. Accomodatevi. Come hai saputo di me? Un androide. Ci ha detto che puoi aiutarci. Capito. Deviante? Invece lei? Lei è umana. E... Cercate un posto sicuro... Dove iniziare una nuova vita. So che il Canada è adorabile in questa stagione. Bellissimi paesaggi, spazi aperti, aria buona... e androidi liberi. Ottimo per ricominciare. Sì, esatto. È proprio ciò che vogliamo. Ma certo. Vi aiuterò. Ma prima devo rimuovere il tracker. Tracker? Sì. Tutti gli androidi sono dotati di un segnalatore per rintracciarli. Se rimuoverò il tuo, sarete assicuro. Avanti. Venite. Lei può aspettarci nel soggiorno? No. Lei resta con me. Ma certo. Seguitemi. Andiamo nel seminterrato. Qui non mi piace. E nemmeno lui. Non mi fido. Andiamocene. Andrà bene, Alice. Rimuoverai il mio tracker e cominceremo da capo in Canada. Lo vuoi anche tu, no? Perdonate il disordine. Mi serviva un posto discreto per le mie macchine. Rimuoverei il tracker e i legali. Quindi ho preferito rinunciare alla comodità. Spero che non si spaventi troppo. No. No, starà bene. D'accordo. Da questa parte. Se potete aspettare lì. Spero che non se svilare la comodità. Spero che nemmeno. Spero che non si spaventa. Spero che non si spaventate. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Beh, sperimenti. No! No, non voglio il resetto! Lasciami! Chiara! Mi stavo dimenticando la bimba. Rinchiudila. Ci pensano dopo. Alice! Alice, no! Un deviante che vuole fare la mamma? È così tenero, ma è anche assurdo. Ma poniamo fine alle tue sofferenze. Quando desideri qualcosa, va sempre a finire uguale. lacrime, lacrime, disillusione. Credimi, meglio essere resettati e non soffrire più. Niente dolore. Niente sogni frantomati. Quasi ti invidio. Cara! Oh, povera Alice. Oh, sembra proprio che mamma non si ricordi di te. Ti ha completamente dimenticata. Cara, cosa ti è successo? Adesso basta, vieni. Mi hai morso. Imparerai le buone maniere, piccola strega. Cara! Svegliati, cara! Vediamoci in soggiorno. Vediamoci in soggiorno. Vediamoci. Vediamoci in soggiorno. Vediamoci in soggiorno. Vediamoci in soggiorno. Grazie a tutti. 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 No. Devi impedirlo. Mi piace giocare con noi. Crea dei mostri per il suo divertimento. Ma chi è il vero mostro? Guarda cosa ci ha fatto. No. No. Grazie a tutti. Lothar! Sì, Slutko. Qui finirò più o meno tra dieci minuti. Poi capirò che fare della bambina. Ricevuto, Slutko. Ti porterò la bambina tra... ...dieci minuti. Sì, 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 Sì. 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 Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. 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 Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì. Sì, Sì. Sì, Sì.